Il 23 aprile al Teatro Comunale di Ferrara, alle 20, potrete ascoltare due composizioni di Vivaldi, Dixit Dominus e Stabat Mater. Io ve lo dico perché sarò presente per aprire la serata con immagini che accompagnano la musica o viceversa. Stabat Mater è l'immagine più potente del momento della tragedia. Quando Cristo è sulla croce, e abbiamo da poco passato la Pasqua, la Madonna sta ferma, immobile, impiedrita sotto la croce. Molte rappresentazioni ci mostrano questo momento tragico della vita dell'uomo in attesa della risurrezione. Stabat Mater e l'altra composizione di Vivaldi è Dixit Dominus, la parola di Dio nel Salmo 109. Anche per quella, in maniera più allusiva, troveremo immagini che ci dicono quello che Dio ci fa sentire dentro, che Vivaldi ci fa sentire nella potenza fisica della sua musica. Ecco, questa serata è una testimonianza di una nuova forma di proposta della musica classica, della musica di Vivaldi, in dialogo con le opere d'arte.